Benvenuti a questo nuovo video nel quale questa volta non voglio né spiegarvi nulla né presentarvi nulla di particolare, ma semplicemente offrirvi una riflessione che ho fatto io, insomma una mia riflessione personale. Ve la propongo magari come spunto di discussione, potete pure lasciare nei commenti ciò che ne pensate, non so, a me ogni tanto vengono un po' queste fisime di farmi qualche pensiero. E sempre però in ambito Linux o Ubuntu, ecco che mi son chiesto, ma in fin dei conti, è più facile adottare Linux nei paesi emergenti rispetto ai nostri paesi cosiddetti avanzati tecnologici del primo mondo, oppure no? Perché questo? Perché ormai sappiamo che nel nostro, diciamo così, detto semplicisticamente primo mondo, quello cosiddetto avanzato con tutte le tecnologie a disposizione, c'è qualche difficoltà tuttora, anche se minore che nel passato, nell'adottare Linux sui desktop. Ecco, sappiamo benissimo che l'ambito server è un altro discorso, ma sui desktop, cioè sui PC di tutti i giorni che usiamo noi, gente comune, ma anche le aziende, nei PC degli uffici, c'è una certa difficoltà nel penetrare il mercato. Perché questo? Perché è abbastanza risaputo che ormai dopo anni e anni di utilizzo di Windows, un po' l'abitudine, un po' le infrastrutture esistenti e consolidate, un po' l'impegno finanziario che occorre nel passare per le aziende, e qui specificatamente a tutto un altro tipo di infrastruttura, costringono, insomma, dalle nostre parti ci costringe tutto ciò a restare a volte ancorati a Windows, a volte non si hanno proprio i mezzi, la possibilità di cambiare vita informatica, diciamo così. E quindi appunto, essendo anche un mondo, una parte di mondo più avanzata, ha iniziato ad usare anche l'informatica prima di altre parti del mondo, e quindi negli anni si è accumulato materiale, si è accumulata abitudini, si sono accumulate conoscenze con Windows, ed ora ci troviamo proprio dipendenti da questo sistema, a volte incatenati a questo sistema che non è il migliore, ma che comunque ci ha resi dipendenti, quindi dipendiamo comunque da questo sistema. Quindi è difficile staccarsene, tagliare il cordone umbilicale, diciamo così, pur avendone spesso i mezzi per poter cambiare, ma appunto se non è l'impegno finanziario e l'abitudine, se non è l'abitudine sono le infrastrutture tra server, prodotti, client, eccetera, PC, tutto quanto magari in un'azienda che blocca, è bloccante, non tutti hanno il coraggio oppure veramente la possibilità di fare il grande passo. Nei paesi emergenti invece, ed è qui che prende corpo la mia riflessione, nei paesi cosiddetti emergenti, quelli, oddio, non così avanzati tecnologicamente, o che non erano fino a poco tempo fa così avanzati tecnologicamente, come può essere l'America Latina, l'ex blocco comunista europeo, l'Africa, parte dell'Asia, eccetera, eccetera, a mio modo di vedere mi sono riflettuto e mi sono fatto questa convinzione, non dovrebbero esserci questo tipo di impedimento, perché in questi paesi in un certo senso, per carità, non è così brutale la cosa, ma possono, per così dire, partire da zero e quindi possono fare una scelta, dire, ok, vogliamo andare ad usare anche noi queste tecnologie, adesso che sono a nostra disposizione, con cosa partiamo? Possono benissimo scegliere di partire con Linux, questo continuo a dirmi io. E quindi ci troviamo un po' in questa epoca in cui è pur vero che, a suffragare questa mia convinzione, ci sono esempi come la Cina, l'India, il Brasile, dei veri giganti che si sono, per così dire, svegliati e questi giganti, Brasile in testa, hanno sicuramente adottato tecnologie più Linux che altre, o vedono meglio di buon occhio dei sistemi basati su Linux che non sicuramente proprietari chiusi come può essere Windows, o altri paesi come la Macedonia, eccetera, eccetera, anche più piccoli, non sicuramente solo questi giganti come Cina, India e Brasile, ma anche paesi più piccoli, comunque come la Macedonia in ambito scolastico, eccetera, eccetera, che appunto prediligono, dovendo partire tra virgolette, per carità tra virgolette, da zero, prediligono già partire con quello che io considero comunque il meglio, cioè un qualcosa di Linux, che sia poi Ubuntu o un'altra distribuzione, poco importa, ma un sistema basato su Linux per i PC. Ecco, e quindi fin qui arriva alla mia riflessione e convinzione, quindi è facile l'aritmetica, i paesi occidentali avanzati, sviluppati, hanno delle difficoltà intrinseche, delle difficoltà endemiche, o dovrebbero avere, mentre altri paesi hanno una posizione privilegiata di partenza. Ecco, poi però, e a chiudere il cerchio della mia riflessione, mi sono detto, ma è poi così vero? Andiamo un po' a indagare se tutto questo è vero, perché? Perché ho voluto chiudere il cerchio della mia riflessione andando avanti un attimino di più rispetto a questi miei concetti o preconcetti che ritenevo esatti. Perché, per esempio, guardando una cartina di questo tipo, dove si rappresenta la distribuzione, nel caso specifico, dei membri iscritti al forum di Ubuntu, quello internazionale, quindi quello in lingua inglese, che è un po' quello che fa da riferimento, poi ci sono quelli più ristretti, nazionali, in altre lingue, però quello più grosso, quello con più iscritti, è sicuramente l'Ubuntu forums inglese, il primo nato, e quello internazionale, definito per definizione internazionale. Ecco, questa è la cartina di un po' di tempo fa, che rappresenta, suddivide sul mondo, nei vari continenti, gli iscritti. E vediamo che, malgrado le mie convinzioni che ho appena descritto, sono molti membri nel classico mondo, primo mondo, cioè l'Europa occidentale, gli Stati Uniti, Canada, e molti meno membri in America Latina, Africa, Asia, eccetera. Ecco. E allora c'è qualcosa che contrasta il mio pensiero, e quindi dico, deve esserci qualcosa che non quadra nella mia equazione. Ecco che andando a cercare un po' di siti qua e là, non ho trovato tantissimo, però qualcosa che mi ha fatto capire, mi ha anche sorpreso un po', l'ho trovata, qualche indizio. E l'indizio mi porta a dire, a chiudere la mia riflessione con queste considerazioni. E cioè che, malgrado tutto, la nostra parte di mondo, quindi quella qui bella rossa, industrializzata, eccetera, eccetera, ha minore difficoltà nell'adottare Linux, diciamo, più a livello personale. Ecco, qui spostiamo il discorso dall'istituzione azienda verso la singola persona, no? Ecco, quindi tutto sommato il nostro mondo, dove abitiamo noi, ha meno difficoltà ad adottare Linux, perché ne ha i mezzi, mezzi tecnologici per farlo. Cosa intendo lo dico fra un attimo, mentre in altre parti del mondo dove potrebbero adottare Linux proprio in massa, anche perché come paesi tipo l'India o la Cina sono veramente, anche in Africa, popolazioni anche grosse, a volte non ne hanno i mezzi. Cos'è che non hanno? Banalmente le persone non hanno la rete, internet intendo, la rete necessaria a scaricare in tempi ragionevoli un'immagine di installazione. Ecco, ciò che noi diamo per scontato, accidenti, è proprio qui che la mia logica, della mia riflessione, non fallisce, è che non considerava il fatto che in questi paesi, non dappertutto, è possibile avere una linea decente per scaricare l'immagine di scaricamento. Quando io faccio i miei bei video tutorial, o altri come me fanno i loro tutorial e dicono vi scaricate questa immagine, la scrivete su un cd o la mettete su una penna usb e poi vi installate tranquillamente Ubuntu, diamo assolutamente per scontato di avere la linea internet che in pochi minuti ci scarica un'immagine cd, cosiddetta iso, i file iso che poi si scrivono sui cd o sui dvd o sulle pennette usb per poi installare il nostro sistema preferito. Ma noi lo facciamo in pochi minuti con le nostre linee ADSL, VDSL, DSL, insomma quello che è, o fibra ottica, fate poi voi, tra poi arriverà la fibra ottica un po' dappertutto, quindi a maggior ragione sarà ancora più veloce. Quindi noi in pochi minuti diciamo non mi piace Ubuntu, scarico Fedora, non mi piace Fedora, scarico Arch Linux, non mi piace questo, quest'altro, noi in una serata possiamo scaricarci decine di distribuzioni Linux da provare, laddove però in altre parti del mondo non hanno questa possibilità, perché non finirebbero più di scaricare un'immagine con la linea che si ritrovano verso internet. Ecco che quindi tutto sommato nella nostra parte del mondo è ancora più facile volendo per il singolo adottare Linux che non in queste parti del mondo dove magari ne avrebbero una gran voglia perché Linux è gratuito, ma non possono farlo per motivi puramente banalmente tecnici di una rete. In sostanza è questo, ciò che ho trovato in rete, navigando, ripeto non ho trovato tantissimo, ma ciò che ho trovato in rete è un po' questo, l'inghippo. Ecco, io sicuramente l'articolo che mi ha aperto gli occhi su questo è del 2010, quindi sono già passati due anni o più e più passa il tempo sicuramente la situazione migliora nel mondo, il mondo è sempre più interconnesso e dappertutto, quindi qualcosa sarà migliorato nel frattempo, ma sicuramente questo problema ancora c'è in alcune aree del mondo. E naturalmente cosa aiuterebbe in questi casi? Aiuterebbe per esempio fornire a queste parti del mondo penne USB o CD già caricati dell'immagine di Ubuntu, per esempio, faccio solo un esempio perché il nostro canale parla di Ubuntu, quindi prendo ad esempio Ubuntu, fornire CD già caricati oppure addirittura fornire PC col sistema già caricato e qui nel tempo sta migliorando la situazione. Ecco, quindi per risolvere il problema non c'è nient'altro da fare che avere già un supporto preconfezionato. Poi gli aggiornamenti di solito ovviamente non sono così grossi come un'installazione da zero, quindi sono sopportabili i vari aggiornamenti del sistema, però ecco, cosa volevo dire con questo mio video un po' così, un po' fuori dalla norma particolare è che io mi sono fatto un pensiero, mi sono fatto le mie considerazioni che sembrano quadrare nel discorso, ma poi c'è un qualcosa che non va, che contrasta con la cartina del mondo, ecco. E volevo capire come mai dove era l'incognita della mia equazione che non mi quadrava. Ed ecco qua. Quindi il parametro tecnologico è quello che comunque fa la differenza fra le varie parti del mondo. Ecco. Probabilmente, spero e sono sicuro che con il tempo questo parametro tecnologico andrà uniformandosi, però dato di fatto oggi come oggi l'equazione è questa, che vedete qui sulla sinistra con la cartina del mondo e sulla destra un po' con le mie considerazioni scritte nella mia riflessione. Non so se questo video vi porterà a riflettere anche voi su questo argomento. Magari me lo direte nei commenti, magari ignorerete completamente questo video. Pazienza. Ho sentito il bisogno di farlo. Spero comunque che qualcuno sia interessato. Vi ringrazio comunque per l'attenzione. Come sempre, un saluto e alla prossima. Ciao ciao.